Ciao Io sento che tu vuoi darmi del lei Sì È vero? E sento che però questa cosa non la posso accettare Ok Ok? Grazie Che vuoi fare? Vuoi cantare? Sì Volevi chiedermi qualcosa? No? Ok, vai Grazie Che vuoi fare? Quello che vuole lei, quello che vuoi tu Allora, con questa canzone, con Mi sono innamorato di te Mi hai stracciato il cuore Mi sono innamorato di te Perché non potevo più stare solo Il giorno volevo parlare dei miei sogni Mi hai fatto molto bene Che è una canzone che potrebbe passare così Perché non ha una vocalità così incredibile Non è un gioco di prestigio Ma è soltanto di sentimento E quindi mi porti in un'altra dimensione Quando la canti, quando la interpreti Mi fai svegliare da questa dimensione meravigliosa Soltanto quando dici Ti vengo a cercare Cercare Sì E cercare Non si può dire Cioè, lo puoi dire Potrebbe diventare una tua caratteristica Ma devi saper dire anche l'altro Ti vengo a cercare Cercare A cercare Devi lavorare sulla dizione Ok Ti va? Sì È molto importante Ok Perché tu poi sei uno che ha intensità E poi questo è un work in progress Perché non sempre poi magari Per esempio il tuo inedito la prima volta Non mi è piaciuto Poi in diretta Qualcosina ho sentito Però è sempre Quindi è sempre Potrebbe essere un crescendo Ma potrebbe essere anche Un abbassando No? Va bene Scegli tu Scegli qualcos'altro che ti senti Che ti piace Che può A me piace heaven Darmi intensità Scegli qualcos'altro che ti senti Hai una tale intensità Nelle parti Quelle recitate Quelle interpretate Basse E ce l'hai molto meno Nelle parti alte Tu quando canti Che cosa metti in gioco? Metti Cioè io personalmente Cioè Anche nei pezzi in cui mi piacciono Anche a me Cioè sento dentro Come Un brivido sento Il tuo corpo c'è anche? Sì Sì? Sì Che sei così Che va bene C'è tutta C'hai come dai Il tuo cuore Quello che viene da dentro Insomma La voce Nelle parti alte Cerca di Di pensarci Perché Sei bravo Sei precisissimo Hai tenuto la nota Eccetera Però Era un po' Svuotata Di Intensità Di sentimento Quindi anche là Lavora pure lì Va bene? Ok Bravissimo Grazie Bravissimo per ora Perché Sì Dipende da quanto lavori Da quanto ti applichi Da quanto ci credi Ok? Credici Credi anche che sei bello Perché questo è importante Dai tutto di te Ok? Non nascondere nulla Ok Grazie Ciao 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 Buona giornata Ciao 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 Grazie.